Una nuova proroga per l'intero mese di novembre in attesa che la società in house appena costituita dalla SRR4 si doti di personale strutture idonee per gestire il nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti. Il TMB mobile attualmente in funzione nella discaricata in pazzo continuerà a marciare almeno per un altro mese. L'intesa ieri mattina è stata raggiunta al termine di una riunione indetta alla provincia di Caltanissetta. L'ente emetterà le necessarie ordinanze disponendo che sia l'ATO CL2 in liquidazione almeno fino a quando la società in house non entrerà al regime ad occuparsi della gestione del nuovo impianto. In questo modo si evitano emergenze per il conferimento dei rifiuti e lo dice il presidente della SRR4 Salvatore Chiantia. È stata una lunga trafila quella per arrivare alla partenza vera e propria di un impianto costato milioni di euro e che farà coppia a breve con la nuova vasca del sito di conferimento di Timpazzo. La regione ha chiesto che si accelerasse sul passaggio della gestione di tutti gli impianti del ciclo rifiuti dal lato CL2 del commissario Giuseppe Panebianco alla SRR4 che opererà attraverso la società di scopo controllata per intero. Tra i nodi si è posto quello della guida. Il nuovo amministratore non sarà di nomina politica. Nella fine settimana appena trascorso al termine dell'ennesima assemblea i sindaci della SRR hanno deciso che verrà pubblicato un avviso pubblico e il manager sarà scelto in base ai titoli e alle esperienze maturate nel settore. L'avviso intanto dovrebbe essere pubblicato oggi nella società in house che nel futuro dovrebbe occuparsi dell'intera impiantistica dovrà confluire anche altro personale probabilmente si procederà con assunzioni e anche in questo caso dovrà prevalere un criterio di trasparenza fondamentale per evitare le solite ingerenze politiche.